Siamo alle A16 Rocaluso 16, è la prima volta che partecipiamo a questo torneo, siamo ben lì di parteciparvi, una bella esperienza per i ragazzi soprattutto, bella organizzazione, l'inaugurazione è stata bella, coinvolgente per tutti quanti. Noi partecipiamo con sette categorie, con la 2000, 2001, 2003, due squadre 2004, una squadra 2006 e una 2007. Siamo venuti a conoscenza di questo torneo tramite altre società che già in passato vi hanno partecipato e anche tramite internet e roba vale. La struttura dove alloggiamo è una bellissima struttura, già l'abbiamo visitata, è poco distante qui dal centro tecnico, speriamo di divertirci e possibilmente che si divertono principalmente i ragazzi.